Per le magnifiche strade dello stermiato bosco di Grunewald si è svolta la marcia di 50 chilometri che ebbe il seguente risultato. Primo Whitlock, inglese, in ore 4,30 primi e 41 secondi. Secondo Schwab, Svezia. Terzo, il letto neubenco. Svezia. Nella gara sollevamento pesi, categoria massima, il tedesco Nager riuscì a sollevare 410 chilogrammi conquistando il titolo olimpionico. Si classificò secondo il cecoslovacco Psnenica con 402,5 kg e terzo l'estone Luar con 400 chilogrammi. Assistiamo all'ultimo assalto per il primato della gara femminile di Fioretto che è stato vinto dalla ungherese Ilona Elek. Seconda si è classificata la tedesca Elena Mayer. Seconda si è classificata la tedesca Elena Mayer. Nel lancio del disco risultò primo Carpentier, Stati Uniti, con metri 50 e 48 centimetri. Secondo Dune, Stati Uniti. E terzo il nostro Oberguer, con metri 49 e 23 centimetri. Seconda si è classificata la tedesca Elena Mayer. Secondo Dune. Seconda si è classificata la tedesca Elena Mayer. Seconda non 내�